Splendono i gioielli di casa sul circuito intitolato a Marco Simoncelli a Misano Adriatico Nel weekend è ricominciato l'Elf Civ e sono i piloti di casa ad ottenere come da pronostico i migliori risultati In Superbike Michele Pirro del Barney Racing Team fissa una doppietta che fa intendere di non volere consegnare in mani altrui lo scettro di campione in carica da qui fino al termine della stagione Due manche comandate sempre dall'inizio alla fine con l'ex compagno di squadra Samuele Cavalieri costretto ad accontentarsi delle seconde piazze Bene anche Roberto Tamburini terzo in gara 1 che soffia il podio alle rivale di sempre Lorenzo Savadori Il Cesenate però si riscatta e conquista il terzo posto in gara 2 Ad imitare l'andamento della Ducati di Pirro c'è anche Kevin Zannoni in moto 3 Il portacolori dell'RGRTM Racing Factory Team ha vita facile in gara 1 ma quella domenicale è da manuale Il Romagnolo attardato nella prima parte di gara riesce a compiere una rimonta degna di nota risolvendo una bagara 6 a proprio favore In SuperSport 600 è dominio totale di Lorenzo Gabellini Il riccionese sigla due vittorie davanti all'ex compagno di squadra e campione in carica Massimo Roccoli Che si issa terzo e poi secondo grazie alla squalifica in gara 2 delle Ravennate Canducci Estromesso dal podio per irregolarità tecnica